Posso capire la posizione delle opposizioni che naturalmente devono sottolineare ciò che la maggioranza, al loro modo di dire, non fa o non fa correttamente. Dire che poi sono state aumentate tutte le tariffe è pesante perché il tariffone saranno tipo 500 righe, ognuna con una tariffa specifica. Noi forse ne andiamo a modificare tra le 10 e le 15. Nel merito abbiamo spiegato quali sono gli aumenti, alcuni sono adeguamenti, altri sono di indirizzo politico. Sono indirizzo politico verso la creazione di un deterrente per le slot machine, quindi noi riteniamo che la ludopatia non sia qualcosa che si debba favorire e quindi questa è una chiara posizione politica. Dire che ci sono aumenti generalizzati si può raccontare ai giornali, poi i giornali riporteranno quello che ritengono opportuno, certo se approfondiranno i dati potranno riscontrare che ciò non è vero. Quello che vogliamo ribadire noi è che sono piccoli ritocchi, sono situazioni di adeguamento necessarie perché nella situazione di crisi non c'è solo il cittadino italiano ma c'è anche il Comune di Roma purtroppo. C'è il Comune di Roma anche perché alcuni di questi fondi sono stati distratti o utilizzati male, sono state penalizzate alcune categorie piuttosto che altre, noi invece vogliamo andare a prendere i soldi da quelle categorie che di norma non soffrono una grave crisi. La cartellonistica pubblicitaria sicuramente risente della crisi come altre, sicuramente a nostro modo di vedere, come detto in Commissione e lo ribadisco qui, il canone in posizione pubblicitaria è a livelli bassissimi. Può dire quello che vuole, le leggi dicono che non può essere aumentato, bene, noi prendiamo atto, ma questo non significa che quel canone è basso. Se qualcuno ha cognizione delle tariffe di mercato potrà vedere che questo canone non è adeguato al mercato, quindi il Comune di Roma non sta regalando spazi pubblicitari, sta chiedendo un canone per utilizzare questi fondi per il decoro della città ad esempio, per altri servizi che vogliamo migliorare per il Comune di Roma. Ad oggi le entrate non ci permettono di garantire dei servizi di qualità, in questo modo riusciamo a dare servizi di maggior qualità. Queste sono le motivazioni che ci hanno spinto a fare queste variazioni. Grazie.